beauty.com è la piattaforma web che ti consente di creare in modo facile e veloce il tuo sito di shop personale. Iscriversi è facile, compila in pochi campi richiesti. Scegli il nome utente e un tuo indirizzo mail valido. Seleziona la casella di spunta per inserire i dati del tuo negozio. La partita IVA, il nome che comporrà il tuo indirizzo internet e un titolo per il tuo shop. Attiva la tua iscrizione tramite il link che ti avveremo sull'email che hai inserito e sarai subito pronto. Dal tuo retro bottega potrai gestire ogni singolo aspetto del tuo shop dalla gestione delle vendite alla modifica di interfaccia grafica. Beauty.com provvederà per te a gestire software, indicizzazioni su motori di ricerca e gestione dei clienti. Tu potrai concentrarti esclusivamente sul tuo lavoro. Gestire un shop in questo modo diventa un'operazione da 10 minuti al giorno. Beauty.com accuore anche i singoli clienti offrendo loro tanti servizi utili, vantaggi e coupon spendibili in tutti gli shop del network. Che tu sia venditore o semplicemente cliente, cura e iscriviti su Beauty.com.